Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino siamo qui con il Nokia N8 aggiornato con Symbian Bell facciamo un video demo siamo come potete facilmente intendere di notte siamo comunque il buio dai siamo sul sera tardi per essere precisi ma questo video diciamo serve come demo per la bontà appunto del firmware ovviamente abbiamo impostato il filmato al massimo della definizione possibile abbiamo preso un tradizionale contesto cittadino insomma una delle tante strade che potete trovare anche voi facciamo questa demo così appunto da farvi capire un attimino di cosa stiamo parlando quando la qualità di registrazione il video demo durerà circa tre minuti come al solito come vedete la ripresa del focus è istantanea al termine del pan l'immagine torna a fuoco come potete apprezzare l'ambiente è particolarmente scuro andremo ovviamente a pubblicare poi il filmato così com'è così come se ne esce dal telefono senza ovviamente metterci un anno questo è palese noi come sempre utilizziamo ambienti riproducibili anche da voi basta appunto prendere un una condizione simile di luce e posto insomma una strada la trovate anche voi una luce in questo caso assente la trovate anche voi proprio per permettervi di ripetere tutti i test che facciamo in prima persona no 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 direi che come test possiamo considerarlo completo i tre minuti canonici li abbiamo superati pertanto io vi saluto spero che l'audio il video insomma sia di vostro gradimento pertanto vi invito a seguirci attraverso sito web formobiles.info e vi invito anche a seguirci attraverso i canali social che abbiamo attivato appositamente per voi ora è veramente tutto ci vediamo online un saluto a presto da Giuseppe Ragozzini